Andiamo qua, bene, andiamo. Io me ne vado, ciao! Bene, andiamo. Benvenuti a tutti, benvenuti, non posso che per questo modo, non posso farlo, 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 non posso farlo. Brasile. Brasile. No, no, go, no, no... Buonasera, buonasera, pomeriggio oggi, andiamo a vedere, è stato un po' più piccolo, andiamo a vedere chi troviamo oggi, vediamo, vediamo un poco, non troviamo nessuno. Ora attraversiamo, come bravo Gon, aspetta prima di attraversare, eccoci qua cari amici, al nostro amato parco, Gon e Giacomo insieme. Cari amici e cari amiche, siamo qui al parco, il parco è messo da Gon, vieni Gon, andiamo, andiamo, vieni, vieni Gon, siamo già venuti prima, siamo usciti alle 5. Ora sono mesi in questo, guarda, mi sto facendo questo, vieni, vieni Gon, di qua ti vieni andando. Siamo andati di Gon al bar, a prenderci un caffè, il caffè dal bar, e niente. E così ora siamo venuti, comunque Gon, appena sceso, ho fatto le sue pipì e ancora deve fare la bocca. Abbiamo incontrato un cane, sicuramente carino, non si siamo avvicinati, perché era maschietto e era molto in pace. Qua è nivoloso a Bari, si è alzato un po' di vento, ma un vento caldo, così chiamato, cosiddetto scivolo. E il cielo è coperto, comunque oggi è stata una bella giornata, una bella giornata. La primavera si fa sentire ogni giorno che passo, anche se in mezzo alle settimane è un pochino fredde e molto piovose. E' un infottico, come è cadito, di un giorno di Pasqua e Pasqua. Ieri in questo porco c'erano due corvi, oggi invece ne abbiamo visti quattro corvi, insieme con i colomidi. Comunque, notando bene, qua da qui ci trovo, stanno cominciando, anzi, è un po' di tempo a questa parte che stessi sui corvi. Olti, se ne erano, di solito, il nostro quartiere è abitato dai colomidi, dai vicini. Allora, questi corvi. Iscrivetevi al canale di Gohan, Gohan in zona. Condividete il video, se vi è piaciuto, e mettete un like. E' sempre qui oggi, Gohan, che è rilassato. Ok, Gohan, andiamo, 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 andiamo. a sforzare il piazzare il video. Come infatti, ieri, più di qualche ragazzino, il giovincello, voleva sapere se Gohan era un youtuber, che era da GBC. Sì, perché ieri di sera, mi hanno visto. E' a Gohan, mi hanno visto qua. Un pare di video. Un pare di video. Faccio un canale. Avete visto che scatto da Gohan? A una forza. Oh, buona sera, buona sera. Ha una forza. Ora è entrata un'altra città. Guardate quanto è bella. Da quella parte. Ora vediamo. Naturalmente lì è femmina, e Gohan e maschietta. Ma comunque, vanno d'accordo. Dai, andiamo a vedere come avviciniamoci. Poi se stiamo avvicinando lentamente con il fagone. Sembra per lui sempre la prima volta. Quanto sia vicino. Stessa falliglia. Buonasera. Come va? Come sta? Oh, caro il primario. E' che non lo fanno apposta. Ci mancherebbe. Ma quanto è bella, Gohan? A fare il culo. Come potete che si chiama? Cura. Eh? Cura. Cade. Cura. 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 C-o-r-a. C-o-r-a. Cura. Ciao Cura. Hai visto Gohan? Non è riscato! Non è riscato! Cura. Che bella. Cura. A me va la zamba, meglio. Da qui c'è la dermatite. Si. Allora si gratta. Si gratta, si. Come è? Perché la dermatite... No, la dermatite è così. Fa grattare a loro, vedi Gohan. Gohan, non devi toccare, Gohan. Che puoi fare infezioni. Ciao ancora, vai a fare la pipì, il tuo padrone deve andare a lavorare, è vero? E poi a mezzanotte devo uscire, ora noi ci possiamo vedere, bocca arriva l'estate E poi a mezzanotte, a mezzanotte! Oh loro sono tradizionali, sono tutti ricordi edifici